Grazie a tutti. Una delle caratteristiche che fanno sì che la Toscana sia una delle regioni più apprezzate al mondo è senza dubbio l'ospitalità. Caratteristica che viene applicata non solo offrendo una sedia alla propria tavola ma anche porgendo ai nostri ospiti un qualcosa che rispecchi in pieno lo spirito della propria famiglia e della terra che li circonda. Il Vinsanto è uno di questi leganti che permette a chi lo offre di far sentire meglio il sapore e la passione per una terra che in passato ha dato sostentamento a molte persone. Per questo l'azienda agricola Marini di Pistoia fa dell'apertura dei caratelli ovvero le piccole botti dove il prezioso vino fermenta almeno tre anni un rito al quale poter assistere con curiosità e devozione. La manifestazione Vinsanto è arrivata alla sua dodicesima edizione è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di questo prezioso nettere ma anche chi è abituato ad accompagnarci i famosi cantuccini da un'esperienza del genere può uscire arricchito con la consapevolezza di poter abbinare il Vinsanto anche ad altri prodotti tipici come ad esempio il formaggio. L'annata di quest'anno mi è sembrata una buona annata. Forse pensavo che fosse ancora più pronto. È un'annata che ancora non esprime tutto se stesso perché ancora deve maturare. Chiaramente fra due anni quando verrà messa in vendita l'annata sarà eccezionale. Sono sicuro che questa manifestazione ormai viaggia bene da sola, è già riconosciuta, tutti ne parlano e quindi forse è quello che anche fa crescere il prodotto, fa conoscere questo Vinsanto un po' nel luogo ma forse anche un po' fuori provincia. Il percorso del Vinsanto è caratterizzato da pazienza e passione ma anche da una buona dose di fortuna perché fino all'apertura del caratello nessuno può sapere né la qualità né tantomeno la quantità del prodotto stesso. Qual è il momento clou del viaggio del Vinsanto? Beh ce ne sono due. Uno è certamente l'appassimento perché se le condizioni climatiche durante l'appassimento o se la scelta delle uve migliori non è stata fatta in maniera adeguata, l'appassimento non andrà a buon fine. E l'altro è la maturazione nei caratelli, cioè la fermentazione e qui un po' dipende dalla maestria con cui è stata fatta la scelta delle uve, con cui è stato fatto l'appassimento, per cui qui non nulla è di meccanico, per cui aprire, chiudere le finestre, dare la giusta reazione è una cosa importante e poi ci vuole anche un po' di fortuna perché uno apre un caratello e non sa mai cosa ci troverà dentro. In teoria uno poteva anche essere vuoto perché aveva perso nel corso degli anni tutto il liquido dentro. E' una disdetta ma un rischio che va a corso. Sì, certamente, perché ovviamente potrà capitare, specie in caratelli più piccoli e quelli più vecchi, le piccole perdite, ma goccia oggi, goccia domani, potrebbe capitare. Il Vin Santo è un fiorello occhiello del nostro territorio che viene tutelato anche da consorsi famosi come quello del vino Chianti, che portano in alto il marchio ma anche una storia che è diventata famosa in tutto il mondo. Il Vin Santo è un vino antichissimo ma allo stesso tempo un vino modernissimo. A noi piace molto dire, abbiamo fatto anche delle attività promozionali specifiche all'estero, specialmente nell'Asia, sul Vin Santo e abbiamo usato questa parola magica che è ospitalità, amicizia. Il Vin Santo è il vino dell'amicizia e l'amicizia, che fosse 500 anni fa o nel 2015, rimane comunque della stessa essenza. E a parte un discorso diciamo filosofico, culturale che sta dietro al Vin Santo, è molto interessante perché a differenza del pensiero di molti, il Vin Santo è un vino piuttosto versatile, lo si abbina non soltanto con il Dessero o con i Cantucci, come insomma ci viene detto, ma anche con molte altre cose, è molto stimolante questo tipo di abbinamento in epoca contemporanea. Vi lasciamo con questa massima di un anonimo bevitore il quale diceva La prossima volta che vi offriranno un bicchiere di Vin Santo, fatelo con la consapevolezza di essere davvero un gradito ospite. Nessuno offre la propria passione al nemico.